Ciao a tutti, bentornati, quindicesimo episodio, stiamo assediando Eckendorf, visto che i principati di confine sono in guerra con Tilea, quindi in caso potremo spanderci in quella direzione dopo, e qua l'obiettivo è contenere le armate del caos per ora, quindi stiamo usando i nostri agenti, comandato a Nord, per assassinare quanti più possibili generali del caos e agenti e per quanto riguarda Eckendorf lo assedieremo fino a quando avrà delle perdite e poi lo assalteremo Grazie a tutti 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 Yes Grazie a tutti 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 Grazie a tutti